Rapidissima recensione di RRR, il film indiano che potete trovare su Netflix in queste settimane. Filmone da guardare. Non vi spoilerò la trama, ma vi dico che il dettaglio è epico ed è la classica pellicola che solo un popolo che vede di fronte a sé un futuro luminoso può produrre. È una storia di riscatto che riguarda un paio di figure eroiche indiane contro lo schiavismo inglese. Non entro nel dettaglio perché la trama ha la sua complessità e non voglio togliervi il piacere della scoperta. Possiamo però farne qualche valutazione di natura politica. La prima è che è una pellicola da vedere perché anche se noi occidentali siamo abituati a considerarci il centro del mondo e a pensare che la nostra visione sia condivisa dall'intero pianeta, che come noi ci dipingiamo come democratici, liberali, progressisti, anche il mondo ci veda così, in realtà vediamo una pellicola indiana con valori indiani che cerca di raccontare una storia dal punto di vista indiano. Gli inglesi qui, ad esempio, sono, come storicamente Forno, colonialisti e schiavisti, invasori di una civiltà, spietati, dominatori dal pugno di ferro. La pellicola, per certi esperti, potrà anche sembrarvi un po' ingenuo, ma in realtà a mio avviso dipinge un'amicizia maschile e l'eroismo, in un modo che forse sia un po' ingenuo o forse siamo noi a peccare di cinismo e a giudicare con scetticismo ogni forma di eroismo perché tutto sommato siamo un po' disabituati all'idea che questa cosa esista. La pellicola dura tre ore, il che potrebbe sembrare anche relativamente parecchio per i nostri standard, ma tutto sommato anche da noi il cinema epico tendeva ad avere una durata superiore alla media, quindi non dovrebbe stupirci troppo. Occorre infine dare per scontato che essendo una pellicola epica, che quindi afferisce ai valori e ai simboli di una civiltà, essendo una pellicola epica che parla di un'altra civiltà, molte immagini, molti riferimenti ci potranno sfuggire. Vi invito pertanto a guardarla con una mentalità aperta, alla ricerca di cogliere e comprendere valori che non necessariamente capiamo. Ad esempio ad un certo punto, nel momento di rinascita di un eroe, questi pronuncia la frase Ho diritto solo all'azione e non ai frutti dell'azione. Io qui colgo che è una nota citazione del Bhagavad Gita, ma chissà quanti altri riferimenti mi sono perso. A livello grafico, nella sua ingenuità, sono comunque notevoli alcune scelte fotografiche, alcuni modi di rappresentare i principali personaggi, ma anche qui, non spoiler, lascio che facciate le vostre valutazioni. Infine però, faccio presente una cosa particolare, che in un fotogramma finale, in cui i protagonisti ballano, sullo sfondo appaiono le foto della storia patriotica indiana. E vediamo a un certo punto Chandra Bose, il noto leader nazionalista indiano, filo nazista e anti-inglese. Questo è notevole, perché aiuta a capire come persino la storia della Seconda Guerra Mondiale, ma in generale la storia dell'umanità, fuori dall'Europa, fuori dall'Occidente, dove noi non siamo più il centro del mondo, viene vista in modo diverso. Là, il nazista Bose è il buono, è l'eroe al quale dedicare oggi l'aeroporto di Nuova Delhi, perché ha lottato per l'indipendenza e contro gli schiavisti. È una pellicola splendida, comunque che vi consiglio, anche solo per vedere quanto è interessante e vedere che esistono ancora popoli orgogliosi della propria storia e che cercano di spiegarsi attraverso i propri valori, senza avvertire questo bisogno di subalternità ai valori occidentali. Una cosa che, ad esempio, probabilmente noi italiani non sapremmo più fare senza renderci completamente ridicoli.